Forza di chi? Raul Hashem, abbiamo una nuova settimana e una bellissima parashah. Ci sono così tanti soggetti interessanti in questa parashah. Anche stiamo iniziando il libro di Bamidbar, che veramente è un libro molto importante con tanti tanti insegnanze. Però iniziamo con l'inizio. Dice la parashah va alotichai ta nerot en mol pene ha menorah, yairu si va ta nerot. Viene ha cadosh barucho e dice aaron, vedi, tu hai un lavoro molto speciale. Tu hai l'obligo di ascender la menorah al Bittà Micdash. E' veramente, tutti i rabbini chiedono, qual è il collegamento con questa mitzvah che riceve aaron? Fare la menorah al Bittà Micdash? Con il fino della parashah scorza. Noi sappiamo che nella Torah sempre ci sta un collegamento tra le cose. Se noi andiamo alla parashah scorza, che è la parashah Nassau, là viene letto sulle sacrifici delle principe. E c'è scritto che tutte le tribù, ogni uno il suo principe è venuto, gli ha fatto un sacrificio, però c'era un tribù che non era dentro. Chi è il tribù che non ha portato nessun sacrificio? Era il tribù delle vie. Ha pensato aaron, forse il fatto che non mi danno a fare un sacrificio? Eh, perché io forse non sono in grado di dare un sacrificio, forse non sono sufficiente tzaddik, forse non faccio la cosa giusta, forse mi devo sforzare da più. E in un senso, un po' Aaron era triste. Fino a che è venuto a Kadosh Baruch Hu e dice a lui, tranquillo, lo che tu farai sarà più grande e più importante dello che loro fanno. Perché loro hanno fatto un sacrificio per la costruzione del tabernacolo e tu invece hai la mitzvah di scendere la menorah. Dinole maestro, il tabernacolo è per un tempo limitato, non è per sempre. Quando arriviamo in Eretz Israel c'è il Betta Migdash, e non solo questo, adesso ho già più di due mille anni che siamo senza il Betta Migdash. Invece la tua mitzvah, la menorah, quello sarà per sempre. Anche quando c'è il tabernacolo e anche quando c'è il Betta Migdash e anche quando non c'è. Adesso uno mi chiede, come facciamo la menorah oggi se non c'è il Betta Migdash? Facciamo. Abbiamo la storia di Chanukah. Qual è la storia di Chanukah? Che noi ricordiamo il miracolo che c'era con la menorah di Aaron. La storia delle Maccabee. Chi erano le Maccabee? Tribù di Livri. Che loro hanno portato la salvezza a tutto il popolo di Israele. Quindi dice a Kadosh Boahu a Moshe, tranquillo, tu farai la menorah e tu accenderai la luce. E dovete sapere che la menorah di Kino è una cosa molto molto profonda. Prima cosa dovete sapere la menorah ha sette candele. perché hanno sette candele. E c'è scritto tanto su questi set. C'è chi dice che questi set rappresentano le sette stelle. Marzo, Venus, Sole, Levanà. Ci sono sette stelle, dicono le maestre. E anche il Masal dipende da questi sette stelle. E ogni una delle candele, delle sette candele della menorah rappresentano questi sette stelle. E c'è chi dice no? La candela rappresenta le sette giorni della settimana. Abbiamo sette giorni alla settimana. Tutta la nostra vita, se vediamo bene, sono ciclo dei setti. C'è uno che vive cento volte sette giorni, c'è uno che vive mille volte sette giorni, c'è uno che viva duemila. Poi la vita nostra è così. Andiamo, domenica, domenica, lundi, matrimoni, shabbat, e reiniziamo, e reiniziamo, e reiniziamo. Siamo in un loop, possiamo dire un loop che ritorna sempre un loop di sette giorni. I bemet, vogliamo approfondire, ogni candelo della menorah che giorno rappresenta? Uno può pensare, se ci sono sette candele, io inizio da destra a sinistra, quindi il primo sarà domenica, il secondo sarà lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, fino a che arrivo al fino, che è il sabato, l'ultimo giorno della settimana. Ossia, qual è la candela che è nel mezzo? Sembra che la candela che è nel mezzo è il mercoledì. Devo dire, maestro, non è così. Perché la candela che è nel mezzo è la candela più lunga di tutte le candele. Perché lei inizia sulla terra e va fino a sopra. Invece, le tre altri vengono dopo e sono più corti. Dicono le maestri, la candela mediana è il Shabbat. Debete sapere, tzaddikim, anche che il Kadosh Baruch Hu di Shabbat non ha creato niente. Se la creazione ha durato sei giorni, il settimo giorno ha riposato. Dicono le maestri perché tutta la berachà dice il Zohar al Kadosh col berachà beha yom ataliyan tutti le berachà, tutto che c'è, tutta la settimana di chi è dipende? Dipende del Shabbat. Ossia, possiamo dire che nei sei giorni ci sta il carico materiale, si lavora, si fa, si costruisce, però la forza spirituale, possiamo dire, la batteria di tutta questa abbondanza che abbiamo nella settimana è il Shabbat. Dicono le maestri, non solo questo. Tre giorni prima Shabbat già inizia a entrare la Kedusha di Shabbat e per questo dovete sapere che un ebreo non deve vedere la settimana di domenica a sabato, no? La nostra settimana è fatta diverso. Abbiamo di martedì sera che sarà adesso, siamo entrato il mercoledì, abbiamo tre giorni, mercoledì, giovedì, venerdì, che questi sono tre giorni per la preparazione di Shabbat. Non solo questo, noi possiamo vivere questi tre giorni grazie alla carica che viene di Shabbat e per questo anche c'è l'ausanza già di dire Shabbat Shalom quando si incontra qualcuno già di martedì sera e anche per questo quando terminiamo la lezione io dico Shabbat Shalom anche che non so andiamo ancora in Shabbat perché già siamo iniziati entrando nella luce di Shabbat. Quindi le tre giorni prima di Shabbat è una preparazione per Shabbat e le tre giorni dopo che sarà domenica lunedì martedì sono le giorni dove la santità della Shabbat continua. Già il mercoledì sarà il Shabbat dopo e per questo dico le maestre le sette giorni non vedere la settimana è un sbaglio vedere la settimana di domenico la sabata tu debbi vedere la settimana di mercoledì che tu inizi a scendere andare in alto attraverso il Shabbat tre giorni e dopo abbiamo la discesa di tre giorni e così un'altra volta e anche dicono le maestri che per questo è il venerdì e la domenica sono le giorni più santificate delle giorni feriali perché più che sei vicino al Shabbat più che sei santificato quindi un po' la nostra vita è un po' al reverse siamo molto influenzati dell'egoin oggi la domenica forse è un giorno molto materiale non so quanto spiritualità si fa forse si deve fare al contrario è il giorno di materialità ossia di vacanza dove si studia meno forse si prega da meno forse deve essere martedì e così dovete sapere la menorah rappresenta la settimana la corona della settimana è il posto dove tutta la menorah si appoggia sulla terra e sul Shabbat senza il Shabbat non abbiamo niente e già mai abbiamo parlato tanto del Shabbat e non è questo oggi la lezione è solo per un po' capire il secreto della menorah però dicono le maestri ci sta un altro secreto molto interessante che Shlomo Amelech quando lui è costruito il Bittà Megdash lui ha messo sette menorot scusa dieci c'erano dieci menorot nel Bittà Megdash ossia una menorah di sette candele invece Shlomo Amelech aveva dieci menorot di sette candele la domanda perché poco Shlomo Amelech aveva bisogno di affare dieci non bastava uno e qui c'è una cosa molto profondo dino le maestri che ogni candela rappresenta un popolo Aaron Moshe Rabbenu loro stavano per entrare in Erez Israele di chi Erez Israele prima che sono arrivati Moshe Rabbenu c'erano sette popoli che stavano sulla terra di Israele e quando Yerushua è entrato nella terra di Israele abbiamo bisogno di vincere sette popoli e per questo la menorah che ha fatto Aaron era una menorah di sette candele perché dobbiamo governare su sette popoli però Shlomo ha governato tutto il mondo c'era un momento questo era il momento d'oro forza il momento più illuminato del popolo ebraico era il momento dove Shlomo ha lui ha comandato su tutti le settanta popoli e per questo Shlomo ha per governare il mondo abbiamo bisogno di fare dieci menorah di settanta candele dieci per sette siamo settanta settanta popoli e adesso la domanda è che c'è fare la menorah con governare altri popoli forza se tu vuoi governare deve comprare non lo so dieci tanki o dieci cavalli o dieci carrozzini o dieci non lo so qualcosa speciale un'arma speciale che ci fare la menorah con il fatto di governare dicano le maestri chi ner mitzvah vetorah o la candela che fa la candela illumina qual è la luce la luce tzadikim in questo mondo non è non è maestri questo mondo viene chiamato alma di shikara questo mondo viene chiamato il mondo della bugia dovete sapere ci sono quattro mondi spirituali non voglio adesso entrare sono termica balistico lo faccio corto il mondo più basso è il mondo dell'Asia e noi il mondo materiale che conosciamo noi e le galaxie come conosciamo stai nel punto più basso del quattro mondo più basso è l'Asia dicano dicano le maestri qual è la differenza tra il mondo più alto e il mondo più basso ci sono quattro mondi è il mondo più alto che si chiama atzilut in questo mondo che è ovvio che là siamo il più vicino al creatore che si può essere e non voglio allungare perché davvero sono una cosa profonda lo cerco fare solo per arrivare al messaggio e nel mondo di atzilut dicano le maestri non c'è cattiveria è un mondo è il mondo più alto che è tutto puro non c'è male è il secondo mondo che viene chiamato olama bria o può essere anche il mondo della creazione perché questo nome questa è già un'altra domanda l'ha anche maggioranza bene però c'è un po' di cattiveria è il terzo mondo che viene anche chiamato olama yetzira questo già è mità 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 bene mità male e l'ultimo mondo che è il mondo dove noi stiamo è assia è il mondo dove maggioranza cattiveria ci sta solo un po' un po' di bene dire mai se questo è un mondo che viene chiamato olama di shikra è il mondo della bugia o quello che è nero davvero è bianco e l'occhio è bianco ed avere nero vi do solo un esempio un esempio della biologia se voi andate a un doktore di salute che lui dire a voi che più bianco il cibo è più che le deve evitare zucchero bianco farina bianco patatine bianco tutti queste cose il doktore dice non è buono per il saluto tu devi cercare il zucchero oscuro e la farina piena e forse la batata invece la patata perché noi sappiamo che il bianco simbola la colore più puro il bianco simbola la cosa più bella invece il nero simbola la cosa al contrario ma sì per questo mondo di bugia più che sembra bianco più che non è bene più che vai all'oscuro più che da verità è bene e questa è la bugia di questo mondo di una maestra e questo è il lavoro del giorno che tu nasce alla mattina dice il Zohar c'è una guerra una guerra che forse non lo vediamo nell'occhio perché non è una guerra dove uno combatte materialmente con l'altro c'è una guerra constanza diciamo l'amai s'itra l'fili dell'alushe così vieni che matto bna or e bna chosche l'fili dell'aoscurità e kia el lavoro qui dell'illuminare kia l'avoro di portare l'ushe diciamo l'amai stricchiner mitzvah vettorah l'avoro di portare l'ushe el popolo hebraico come kidishe l'eprofetto ishaya heri atem or la goi i voi saret la luce per l'altro popolo c'è scritto che quando va a venire il mashiach il mashiach va a governare tutto il mondo che vuol dire il mashiach va a governare tutto il mondo come va a governare oggi quando pensiamo di un capo di un mondo che stiamo pensando o uno che ha il forzo economico più grande si lui ha il forzo più economico più grande possiamo dire che 50 anni fa o 30 anni fa non era discussione che era America la forza economica più grande quindi loro governano oggi già c'è discussione dove sta la forza economica più grande o uno che ha la forza materiale uno che ha l'esercito più grande uno che ha gli soldati più più forti maestri però quando va a venire il mashiach sapete chi va a governare il mashiach non va a avere bisogno né di combattere né avere forza fisica in avere la forza economica va a governare per il fatto che lui sarà quello che avrà nelle sue parole la verità lui sarà quello che porterà le luci tutti le popole vorranno sottomettersi al suo governo non con forza solo perché vanno a capire che là ci sta la verità lui porta la parola di Hashem dice le maestri che la parola di Hashem è un giro di Tora il d'varo di Hashem di Yerusalem la Torah è una giro di Yerusalem e la parola di Hashem è una giro di Yerusalem come vuol dire la parola di Hashem è una giro di Yerusalem la parola di Yerusalem e va a parlare con il mondo non il Kohen il Bittà il Mischem il Popolo Ebraico loro vanno ricevere tramite la parola di Yerusalem loro vanno trasmetterlo al mondo e per questo quando Moshe voglia governare le sotte popoli che ci stanno sulla terra di Israele si accende la menorah di Sharon di sette candele con la luce con la verità questa è la nostra forza una forza una forza fisica del mano però la sua forza si sta nella bocca io voglio dire nella sua bocca è la fatta che lui della sua bocca fa uscire la verità assoluta e non c'è una verità assoluta fuori della Torah e per questo Shlomo ha melech che lui deve governare sopra settanta popoli lui mette settanta candele perché ogni candele ogni luce la candela simbola la mitzvah e la luce che illumina la candela simbola la Torah e per questo vediamo che questa menorah è una cosa molto 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 alto non solo questo noi sappiamo che normalmente quando c'è luce dentro di casa la luce è fatta per illuminare le case e per questo se voi vedete bene la luce da fuori entra dentro per illuminare la casa le finestre sono fatte in un modo così per far entrare la luce da fuori ad dentro però il betta migdash era al contrario le finestre del betta migdash furono fatte in un modo per far portare la luce da dentro a fuori e questo tzadikim è il lavoro così importante dello che faceva Aaron e questo è il lavoro così importante che c'è in betta migdash e questo è lo che noi dobbiamo sapere ogni uno di noi ha l'obbligo di essere questo candelo dice le maestri e tutti le popoli vedranno così dicono le maestri tutti le popoli vedranno la forza di non solo questo dicono le maestri c'è che pensano che il tempio fu fatto solo per il popolo ebraico però non è c'è scritto e la mia casa sarà una casa di preghiera per tutti le popoli e questo è il lavoro nostro illuminare il mondo illuminare le popoli è ovvio che per farlo dobbiamo avere la verità e il qual è il 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 timbo di la verità è la verità nessuna bugia, nessuna stranità, nessuna cosa al contrario, è questa la Torah. E questo è il lavoro nostro, aprire questa Torah e studiarla, illuminare noi stessi, caricare noi stessi così possiamo illuminare da dentro a fuori. Come la menorah servivava per illuminare da dentro il Beit Hamikdash a fuori. E questo tzedekin era il lavoro della menorah. E per questo che grande onore ha ricevuto il Kohen essere in carico, perché dovete sapere che antiguamente le rabbini erano le Kohanim, non erano come oggi, che qualsiasi tribù erano. Però già non c'è il Beit Hamikdash, è un po' cambiato. Se qualsiasi uomo puoi studiare il Torah e qualsiasi uomo puoi insegnare. Antiguamente le Kohanim non lavoravano e tutto il popolo lavorava e dava a loro le dieci, ma così loro possono dedicare a loro stesso alla servizio divino, sia per la Kadosh Barfu, per ancora più importante, per il popolo. Però questo è solo l'inizio della Parashah. Questa Parashah è molto 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 bella. Dice la Parashah, non solo questo, qui stiamo per iniziando, dovete capire dove stiamo nella cronica del deserto. Abbiamo avuto l'uscita di Egitto, abbiamo passato qualche giro fino a che siamo arrivati al Har Sinai, sul montagna di Sinai, e questo era nella Parashah d'Itro. Là abbiamo visto tutti la Kadosh Barfu che è sceso sul montagna, a Kadosh Barfu stesso che ha parlato a Nuhi Hashem e Lokeha. E dopo il Ma'amad al Sinai, dopo questo evento, diciamo, istorico, un evento che non possiamo, un evento che era l'obiettivo del mondo, le maestri, il popolo ebraico è rimasto sul montagna di Sinai per un anno. Per un anno il popolo dopo l'ha ricevuto della Torah è rimasto sul montagna di Sinai. Perché? Per studiare, per imparare. Era un popolo che per la prima volta ha visto la Torah, per loro è una cosa nuova. Un anno hanno dedicato loro stesso per studiare. E che succede? Viene Moshe Rabbeinu e dice al popolo, a Kadosh Barfu ha detto, le nuveli si sono spostate, dobbiamo andare e iniziare a camminare, dobbiamo andare e iniziare il nostro viaggio per arrivare alla terra di Israele. Molto particolare che il viaggio nel disorto non era programmato. Ossè, il popolo mai sapeva quanto tempo stava in qualsiasi posto. Come andava, no? C'erano le sette nuve di gloria e quando le nuve le sono iniziato a muoverci, il popolo sapeva che anche loro devono iniziare a muoverci. E quando le nuve le si firmavano, anche il popolo firmava. Immaginate, uno sta a casa, ah, le nuve le muovano, facciamo le valigie, facciamo le valigie, veloce, veloce, e quanto tempo si va? Non si sa. A dove si va? Non si sa. Le nuve le arriva a un posto, si bloccano, possiamo aprire le valigie, abbiamo bisogno di essere qui. A volte le nuve le si firmavano per un giorno, a volte per sette giorni, a volte per trenta giorni, una volta anche diciannove anni si è firmato, sono firmato nel stesso posto. Però la cosa è che mai sapevano, si sarà un giorno, trenta, un anno, diciannove anni. O se il popolo ha messo su stesso tutto in mano di Haqadush Barucho. Ibe mezza di Kim, dovete capire che questa generazione non era una generazione semplice, non c'era una generazione più alta nella storia come questa generazione che ha visto l'apertura del mare. Ibe le maestri, la schiava che ha visto l'apertura del mare, ha visto cosa che anche il profetto Ezechiel, che lui ha visto la mercava, ha visto la chariota, la sedia di Haqadush Barucho. Non possiamo anche capire in che livello. C'è una mamma ipano, una mamma ipano, un grande cabalistico anche italiano, che lui ha detto che ogni mille uomo delle nostre generazioni, stava parlando della generazione sua, è come una delle generazioni del deserto. La forza, la carica spirituale di uno di loro era come mille gente da oggi, solo per far capire di che generazione si parla. Però, esattamente questa pone problemi in capire questa parasha. Perché se stiamo parlando di un popolo che bevete così alto, ci sono due o tre cose in questa parasha che non si capisce bene e che si deve spiegare. La prima cosa, dicono le maestri, che il popolo dopo un anno di essere al lato delle montagne di Sinai, ogni giorno studiando la Torah, le regole di Hashem, quando Moshe Ravano ha detto a loro, va bene, le nuove le sono iniziato a spostare, che dobbiamo andare, c'è scritto che erano così felici di andare, dice le maestri, come un bambino, adesso hanno terminato l'anno, come il bambino quando inizia la vacanza a giugno, come lui esce dalla scuola, prende i libri, e scappa, dice, va un Hashem, è scappato della scuola, adesso ho vacanza. No, sì, così il popolo ha fatto, proprio si è scappato della scuola sulle montagne di Sinai, come un bambino che si scappa al fin anno della scuola. E come vai? Perché si scappano? Questo è un mondo, un'generazione spirituale, e sono gente elevati, che stai, non state felici? Dice, mi lascia, anzi, erano così felici di andare via, hanno detto, già abbiamo ricevuto 613 mizvot, chissà, se rimaniamo qui ancora un mese, vanno ad aggiungere ancora 30 mizvot, ancora 50 mizvot, vai, andiamo via, 613, basta, non vogliamo ancora avere, avere ancora mizvot. E questo fa difficoltà, a capire di che si tratta, come vai così? Perché non sono felice con lo che hanno? Non solo questo. Seconda cosa, Sadikim, che hanno mangiato, è generazione del deserto, è nel midbar, hanno mangiato la manna. La manna Sadikim era un superfood. Sapete perché era un superfood? Avevi solo le cose positivo del cibo e nessuna cosa negativa. Qual è la cosa positiva? È il sapore. che è buono in la bocca. Questa è la cosa positiva. Qual è la cosa negativa? Eh, si mangi troppo grasso, il colosterolo, si mangi troppo, hai male di stomaco, devi andare al bagno, a volte problemi di digestione. Dicano le maestri, il manna non era così. Tu potevi avere il gusto di qualsiasi cibo, potevi tutto il giorno chiedere una bistecca con patatine, con cose fritte, con cose pieni di olio, però non avevi colosterolo e non avevi grassi, anzi, non andavano anche al bagno perché il cibo di manna era così puro, era un cibo divino, non c'era nessun cattivo adentro. Che succede? Quando mangiamo, le cose buone, il corpo absorba, le cose cattive vanno via al bagno, la manna anche non c'era il bagno. E che succede? Dopo di mangiare il manna, invece di essere felice, che hanno detto? Sono iniziato a lamentarci. Hanno detto, che è questo? Noi ci ricordiamo il concomoro, l'anguria che abbiamo mangiato in Egitto, ci ricordiamo la carne che abbiamo mangiato in Egitto. Non è che loro hanno mangiato così bene in Egitto, erano schiavi. Forse hanno visto gli egiziani mangiare. Perché hanno mangiato cibi di schiavi? Noi sappiamo schiavi che mangiano. Non voglio far ricordare adesso epoche scure, tipo l'Olocausto, che hanno mangiato l'ebrei nel campi? Non hanno mangiato le bistecche e lì che hanno mangiato? Shem i Shmokia. Non porta mai così cattiveria più nella storia nostra Bezrat Hashem che sarà pronto il Mashiach. Non dobbiamo soffrire e tutta la sofferenza mai ci sarà ancora. Però che voglio dire? Anzi, voi avete tutti le guste nella bocca. E questo si deve capire. Perché si lamentano? Viene maestri, una delle ragioni perché loro si sono lamentati è la depollezza dell'uomo. Viene maestri, loro non è che non avevano il sapore dell'anguria del concomero. Le mancava la forma. Viene maestri, c'è un uomo che mangia con le occhi. Non basta che ho sapore buono. Io voglio anche vedere la forma. Questa cosa verde, tonda, bella, che la taglia nel mezzo, il rosso di là dentro. Viene maestri, questa era la debolezza loro. Che questa cosa che era almana, che era bianco delle maestri, era come un colore bianco, così. Ha detto, che è questo? Vogliamo vedere le forme. Non solo questo. Si sono lamentato così nelle maestri che sono iniziato a piangere. Avete mai visto un uomo piangere. Quelli sono emesse piangere, perché? Perché non hanno il cibo. La manca per loro non è sufficiente. Vogliono vedere la forma del cibo, vogliono vedere le odori del cibo, non vogliono solo le gusti. I behemet, che si deve capire. I moshera benu, dovete sapere, lui si sentiva molto male con questo. Ha detto, vedi, io voglio dare a vostra carne, però prima che daccio a voi carne, devo nominare 70 anziani. Dopo che io nomino 70 anziani, possiamo cambiare invece della mano, mangiare carne. I behemet, si vediamo nella parasha, il popolo si lamenta sul fatto che non hanno cibo e prima di portare le squali e il selà, che era un carne buono per mangiare, Moshera benu nomina 70 anziani. La domanda, qual è il collegamento? Perché si deve nominare 70 anziani prima di portare carne? Se tu vuoi portare a questo popolo che sta lamentando carne, portalo carne, e basta. E qui sa di Khin c'è una cosa molto, molto profonda. Dice il Zohar che tutta l'abbondanza di questo mondo scende attraverso le leader il giusto. ossia chi è il canale o chi è il tubo che può portare la cosa del mondo di là, il mondo nostro Moshera benu. E Moshera benu era così spirituale, era così santificato. Dopo di essere nel montagna di Sinai 40 giorni senza mangiare, senza bere, dice le maestre è divenuto quasi un angelo. Quando Moshera benu è sceso dal montagna di Sinai la sua faccia illuminava. Dice Moshe io carne non vi può dare non perché non voglio o che sono così spirituale. Il maestre non solo questo, Moshera benu non capiamo bene che è Moshera benu perché mai abbiamo visto una cosa di questo genere. Maestre Moshera benu ha cancellato le sue volere. Ossia ognuno di noi ha voglia per cose, ha voglia per mangiare e comprare e vedere e fare. Moshera benu è arrivato a un livello che non aveva nessuna voglia. La sola voglia che lui aveva era la voglia di creatore. Ossia ha cambiato le sue voglia nella voglia di Haqadosh Baruch che questo è un livello che non possiamo anche immaginare di che si parla. Ossia non parliamo di un uomo che ha un'ezara adesso voglia mangiare adesso voglia riposare adesso è stanco adesso voglia comprare adesso voglia non aveva nessuno di questa cosa. E per questo forse possiamo anche capire anche che questo non è il soggetto della nostra parasha. Alla fine della parasha abbiamo Miriam che parla su di Moshera e dice che c'è scritto che Miriam ha sentito di Zipora che Zipora ha detto suo marito che non ha rapporto se Moshe ha smesso dopo che è sceso del montaggio di Sinai Moshe Rabbeinu ha smesso di avere rapporto con Sumori e Miriam si è arrabbiato su di questo ha detto perché perché lui non ha rapporto con Sumori anche io sono una profeta ho rapporto con mio marito anche Aaron che era un profeta aveva rapporto con Sumori perché quello non ha e ha parlato lasciò su Moshe Rabbeinu e lei anche fu punito di Akkadosh Baruch la verità che Miriam aveva ragione nel senso perché una delle cose che la Torah dice che uno deve avere rapporto con Sumori è anzi una mitzvah e le maestri però non si può capire Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu ha cancellato dal suo volere non aveva più Yetzer dice l'agmao una cosa interessante noi sappiamo tanti volte sentiamo nella Torah di storie del popolo ebraico che ha fatto idolatria è molto difficile per noi capire come questo popolo ha fatto idolatria nessuno di noi si sveglia domani alla mattina con pensiero di fare idolatria di inclinarci a un non lo seo a un'immagine come mai quelli che erano così santificati e non solo nella Torah anche nei libri delle profeti epoche di Ahab e di Michà tanti epoche che è scuro nel popolo ebraico di Rovan Benevat abbiamo parlato su di lui in una delle lezioni scorse che bemette il popolo ha fatto idolatria e dice che un giorno c'era un rabbino grande che ha sognato un rabbino delle generazioni precedenti e ha detto se tu avevi l'Iezra dell'idolatria come io lo avevi tu correva all'idolatria che voglio dire io ne maestri che l'Iezra la tentazione dell'idolatria era una tentazione così difficile a combattere che le maestri hanno cancellato questo Iezra ossia noi oggi non possiamo capire che vuole dire l'Iezra il volere di fare idoli perché? perché fu cancellato dalle maestri perché le hachamim hanno visto che questa è una tentazione troppo difficile e il popolo non ha le capacità di combattere questo desiderio solo per fare capire che stiamo parlando di idolatria non possiamo capire proprio perché fu cancellato dopo che fu cancellato questo Iezra ma si sai che cancelliamo un altro Iezra cancelliamo l'Iezra dell'adulterio che le uomini non vanno a desiderare le donne e le uomini così nessuno va a andare con donne che non deve andare o al contrario nessuna donna va a andare con un uomo che non deve andare e che hanno fatto? hanno subito perché già era un tempo hanno fatto cosa speciale per poter cancellare hanno subito cancellato anche l'Iezra del desiderio e che succede il Tzadikim? il mondo si è firmato nessuna creazione non ha avuto ancora rapporti né le mariti con le moglie però anche anche le animali dicano le maestri hanno smesso di avere rapporti perché? perché questo Iezra fu cancellato totalmente hanno visto le maestri che l'Iezra questo è necessario è necessario un po' non si può fare peccati però c'è bisogno un po' perché se non c'è un po' di Iezra anche in un modo permesso non vanno a fare lo che devono fare e hanno a fare ritornare questo Iezra perché sto dicendo tutto questo? per capire chi era Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu è arrivato a un punto di cancellazione di Iezra e poi cosa nessuno può capire perché lui è arrivato a un livello così che non ha fatto lo che aveva bisogno di fare comunque dice Moshe Rabbeinu se voi volete carne non posso portare carne devo nominare nuove leader e questo dicono le maestri la forza del popolo dipende del leader più santificato che è il leader più santificato che è il popolo e per questo Moshe Rabbeinu che era tutto spirituale il cibo che lui poteva fare scendere del cielo era solo un cibo spirituale come la mano e per poter fare carne si deve cambiare le leader e per questo Moshe Rabbeinu ha nominato 70 anziani per avere la capacità di far scendere del mondo di là anche un cibo materiale però comunque dobbiamo capire perché si sono lamentati così che succede qual è la storia avete tutto avete la mano avete il numero di gloria ma carà tutti i gusti ci sta tutti i sapore ci sta non ci sta nessuna cosa negativa non c'è problema di colesterolo di salute di grassi di vitamini quanti problemi oggi nel mondo moderno ci sono anzi ho letto un articolo incredibile che hanno detto che le cibi di oggi sono così contaminato e fatto industriale che non hanno le stesse quantità di vitamini come le cibi 50 anni fa ossia proprio come diranno i maestri il maschiach deve venire per forza deve essere un momento nel mondo che se il maschiach non viene biasta anche il cibo non è cibo anche la luce non è luce anche la pioggia già non è pioggia anche l'acqua già non è saluto vediamo dove questo mondo sta andando e chi ha fatto questo quando ha creato l'uomo ha detto vedi ha fatto un mondo perfetto che da te solo una cosa le ovda o le shomera ossia non deve riparare dice il mondo già è perfetto deve solo mantenerla il nostro lavoro non era riparare non era costruire era solo mantenerla adesso già dobbiamo riparare soprattutto le cose che furono distrutte dalle nostre avi però comunque perché si lamentano e per capire questo perché un po' abbiamo diviato dal soggetto c'è un'altra eposodia molto interessante nella nostra parasha è l'eposodia di Itro Itro è il grande Itro Itro che ha ricevuto nel suo nome la parasha di Itro non ci sono tanti non ebrei che hanno ricevuto l'onore che una parasha sarà nominato nel loro nome uno di questi pochi era Itro e quindi le maestri perché la parasha di Itro anzi la parasha più importante la parasha delle dieci comandamenti la parasha della rivelazione di Akkadosh Bacchus del montagna dei Sinai viene chiamato addirittura in un nome di uno che era non ebreo chi era Itro Itro era il suocero di Moshe Rabbenu era il padre della sua moglie si pora la sua moglie e si è convertita però Itro non si è convertito e c'è scritto che dopo che lui ha sentito l'apertura del mare e tutti le miracoli che succede anche con la guerra di Amalek non voglio allungare troppo adesso perché voglio arrivare al punto lui è venuto ha detto al popolo ebraico ho capito che voi siete il popolo vero e ho capito che il vostro Dio è il Dio vero il Dio il Dio non era un uomo semplice il Dio era capo delle idolatrie per fare un paragone ci sta uno qui a Roma per fare un paragone immagina che domani lui viene e dice ho deciso essere ebreo ho capito che la Torah è vero ho capito che tutto il resto è bugia quanto chi Dushashem può fare in questo momento quanto viene santificare il nome del creatore quando la verità viene riconosciuta anche da un capo di idolatria quindi la parasha di Itro viene chiamata Itro per questo merito e ora nella nostra parasha succede una cosa strana questo Itro che è venuto per fare parte del popolo ebraico dice scusa Moshe Rabbello io ritorno alla mia paese basta non vado con voi e dice perché perché non vai con noi noi diamo a te anche chebrahai parnassà avrai vita bene dice no no quando arriviamo nella terra di Israele voi non considerate me come tribù perché io non faccio parte delle 12 tribù quindi quando vanno a dividire la terra di Israele io non va a ricevere nessun parte io ritorno a casa mia io sono ricco ho tanti onore ho tanti campi ho tanti palazzi non voglio e Moshe Rabbello vediamo sta Bemet sta supplicando dice per favore il trono non andare via e perché Moshe Rabbello era così uno può pensare tu sforcero va via sei felice che stai facendo dillo grazie sforcero via hai un buon viaggio ci vediamo a Rosh Hashanah a Pesach vi mando una letra però no anche che Moshe Rabbello era il suo sforcero inizia a scoppicare e dice rimane con noi e perché era per Moshe Rabbello così importante molto semplice ha detto si quello che ha santificato il nome di Hashem va andare via ma che vanno a dire anche quello è nel fino e anche lui si è rivolto e questo dobbiamo capire come mai il tuo che ha capito tutto che ha detto voglio fare parte di questo popolo è nel fino invece di divenire ebreo di convertirci di essere parte del nostro popolo dice no no vado via e questo dobbiamo capire e sa di chi per capire questo dobbiamo un po' approfondire questo concetto non è la prima volta che vediamo c'è la storia del faraone noi sappiamo quando il popolo ebraico era in Egitto quando c'era l'apertura delle mare tutti le eugiziane sono morte tranne uno c'è uno che è uscito vivo della storia dell'apertura del mare chi è uscito vivo è il faraone stesso e dicono le maestri questo faraone ha continuato a governare però non è l'Egitto ci sta la storia famosa che leggiamo noi l'apertura di Yonah la storia di Yonah conoscete Yonah il profetto Yonah che deve andare alla città di Ninve perché perché Ninve è una città di cattivi erano tutti ladri tutti i giorni uno robava uno dell'altro ha detto a Kadosh vai a dire a loro che in 40 giorni se loro non fanno vado a distruggere tutta la città e sappiamo che Yonah non vuole andare faccio la storia corta Yonah arriva e parla con il re chi è il re dell'Inve sa di chi il re dell'Inve il faraone nel stesso faraone che ha visto le dieci piaghe ha visto l'apertura del mare quando è venuto il profetto Yonah e ha detto a lui vedi tu ricordi questo creatore che ti ha portato le dieci piaghi lui adesso va a distruggere la tua città lui si è spaventato proprio perché sapeva esattamente che voglio dire sapeva che non si scherza e ha detto a tutto il suo popolo dobbiamo fare teshuva tutto il suo popolo ha digiunato per tre giorni immagini un popolo straniere per tre giorni hanno tutti digiunato e non solo questo anche gli animali lui ha detto non possono mangiare tre giorni hanno digiunato e hanno pianto e hanno pregato e hanno cambiato le loro azioni perché poiché hanno capito se non cambiano che succede a Kadosh Boku va a distruggere la città sono divenuto tzaddikin non hanno robato ma se non solo questo c'è una lafa che se tu roba qualcosa se tu hai fatto frutto o un ladro lui non è che basta chiedere scusa lui deve restituire la cosa che lui ha preso quindi ognuno in questa città che erano tutti ladri hanno tutti iniziato a restituire le cose che hanno robato se davvero hanno fatto teshu davvero non solo questo c'è una lafa interessante se io per esempio ho robato un pezzo di legno del mio amico e io ho messo questo legno nella fondazione del mio palazzo o se adesso se io voglio restituire questo pezzo di legno al mio amico devo distruggere tutto il palazzo perché ho messo sotto la fondazione dice la lafa non deve distruggere tutto il palazzo poi dare l'equivalente del valore se diciamo questo legno valava mille euro non deve distruggere perché non deve distruggere tutto il palazzo per restituire questo mille euro quelli in Invea avevano così paura del creatore hanno distrutto tutto il palazzo non danno solo il valore vogliamo essere sicuri che ci perdono hanno distrutto tutto il palazzo per dare anche il legno che hanno messo nelle fondazioni solo per fare capire sapete quanto tempo ha durato questa teshuva quanto tempo hanno fatto senza rubare esattamente 40 giorni e il giorno dopo che il profetto ha detto il creatore vi ha perdonato sono tutti ritornati a essere come erano all'inizio la domanda come mai voi avete fatto il tushuva avete piante Hashem ha avuto un mister codia così subito state ritornate dove eravate passate due tre giorni sono ritornate esattamente dove erano maestri c'è un altro halakha c'è un halakha del guerra voi sapete quando viene un goi e si converta secondo l'halakha lui viene considerato come lui fu nato da nuovo adesso che succede se questo goi che adesso è un yudi un convertito lui adesso già non ha eredità del suo padre ossia il suo padre che non è ebreo halakha già non viene considerato il suo padre la sua madre che non è ebrea halakha non viene considerato la sua madre per esempio non deve fare la shiva ma sia su di loro perché perché non sono i suoi genitori perché non voglio allungare troppo perché quando uno si converta la sua anima cambia un po' difficile a capire però è così quando uno si converta non è la stessa persona ossia quello chiamamolo non lo so chiamamolo smith nome inglese questo smith quando lui ha fatto il mikve per convertirci quando lui esce non è la stessa anima quando lui è nato c'è stato un'anima di un Abraham di un Yitzchak un ebreo per forza dell'arricanazione precedente chissà da dove viene questa anima però già non è e per questo il collegamento che lui e i suoi genitori anche spiritualmente non esiste da più o che non fa parte dell'anima dei suoi genitori viene da un altro posto però c'è un Allah che quando i suoi genitori morano lui non riceve l'eredità però diciamo che i suoi genitori hanno molto ricco e lo hanno lasciato nella sua eredità 5 milioni di euro immaginiamo dice l'Allah anche che secondo l'Allah proprio non la posso prendere permettiamo a lui prendere i soldi perché abbiamo paura che lui va a dire ah no no se non posso prendere il 5 milioni del mio padre ah non voglio essere ebreo voglio ritornare al mio popolo mi rimasti però scusa che succede quello che è venuto a convertirci quello davvero è perché ha capito che il creatore è vero e che la soldi non è importante la cosa più importante è lavorare di fare il mitzvot di Torah lui per 5 milioni va a ritornare a essere un voi come mai uno che è venuto con convizione davvero ha capito la verità il maestro è sì può essere perché e qui è la chiave al tzadikim qualsiasi elevazione che uno ha spiritualmente qualsiasi eseczione che uno sente di qualcosa se lui non lavora per mantenerla la perde totalmente che voglio dire questo faraone ha visto le dieci piaghi ha visto l'apertura del mare ha capito che vanno a distruggere la sua città per 40 giorni è venuto l'uomo più santo del mondo però tutta questa elevazione tutta questa esitazione tutta questa comprensione della verità si non lavora di mantenerla il giorno dopo che questa esitazione passa o questa elevazione passa l'uomo ricade dove è tzadikim quanta volte mai sia un ebreo stava in momenti difficili mai sì mai sì uno stava malato stava malissimo chi ha detto Tadkadosh Boko ti prego mandami guarigioni ti prometto non sarà il stesso vedrai sarà un tzadik da oggi metto te filin prego inizio a studiare mangio solo faccio ti prometto dammi guarigioni aiutami salvami e Hashem dice va bene vai hai pregato così forte hai prometto di cambiare tu stesso perché perché sono venute le sofferenze le sofferenze vengono perché ci facciamo sbagli quindi se tu capisci questo Hashem ti manderà guarigioni però che succede il tzadikim due o tre settimane dopo che lui si guarisce Bemezi è cambiato conosciamo ognuno di noi ha avuto questi momenti no dove stava in difficoltà economici spirituali saluti e ognuno di noi ha detto sì farò e quando Baruch Hashem cosa sono sistemato che abbiamo fatto io le maestre esattamente qui è vero che questo è la generazione del deserto è vero che hanno visto dieci piani è vero che hanno visto la mana però quale stessa esiccazione quale stessa elevazione se non lavori per mantenerlo cade subito c'è una storia incredibile dice l'agmara c'era una matrona matrona ci sono tante storie nel Talmud su matrona matrona erano donne romane importanti con forza politica c'era una matrona che è andata non ricordo se era Rabbi Yohanan o un altro rabbino scusa sono dimenticato il nome del rabbino e questo rabbino perché quando HaKadosh Baruch Hu ha creato Eva era bisogno fare duro dormire il suo marito Adam perché aveva bisogno che Adam sarà dormendo perché ha fatto HaKadosh Baruch Hu ha fatto come anestesia ha fatto dormire Adam e di Adam ha fatto la donna dice il creatore può fare tutto poteva fare questo anche mentre che Adam è sveglio perché deve fare lui anestesia generale perché deve che Adam non va a vedere la creazione di Eva il rabbino ha dato una risposta non in questo è il punto e ha detto no no io ti do un'altra risposta tu sai perché HaKadosh Baruch Hu non ha voluto che Eva veda e che Adam non vede la creazione di Eva o che se Adam forse aveva fatto la creazione di Eva non aveva amato Eva come l'ama ha chiesto il rabbino non capito che c'è fare uno con l'altro dice sì ti racconta una storia io sono una donna molto bella ha detto questa matona io del giorno che fu nato fu promesso al mio cugino era saputo tutti che io mi devo sposare con il mio cugino però noi tutta la nostra gioventù abbiamo fatto insieme e che succede il mio cugino mi ha visto così tanto nella sua vita è venuto a disprezzarmi e ha cercato un'altra donna e nel filo si è sposata con una donna molto meno bella da me molto meno saggio da me perché non perché era meglio di me e quando uno vede qualcosa un giorno un altro giorno un altro giorno l'effetto dell'esitazione dell'elevazione che uno si sente la perde dice esattamente perché a Kadosh Baruch Hu voleva che Adam dorme mentre ha creato Eva non voleva che Adam va a perdere questa esitazione perché le maestre esattamente succede nella spiritualità e questo è in parentesi è la lacha della nida tutti la lacha della nida anche del pudore perché una donna deve andare con pudore molto semplice perché se la donna va con pudore quando non è con pudore con suo marito il marito si esita voglia bene la sua moglie o se la moglie tutto l'anno va senza pudore con marito o senza marito che succede? e nel fine viene disprezzato esattamente la storia della nida un obreo che fa la lacha come deve almeno per un settimana e sei giorni al mese non tocca non parlo di atto non tocca a sua moglie perché no? che succede? sia al di là della impurità della sangue della menstruazione perché io voglio che sarà amato nell'occhio tuo se tu la puoi toccare ogni giorno viene disprezzato sadikim io ti posso anche dare la mano la cosa più buona nel mondo però se tu la mangi giorno dopo giorno anche quello viene disprezzato perché questo è un caratteristico umano il caratteristico umano è una debolezza perché c'è scritto che quando il Kadosh Baruch ha fatto il tabernacolo ha detto e io mi dimorerò in mezzo in mezzo da voi però non disprezzerò voi perché c'è fuori uno con l'altro il fatto che Kadosh Baruch è sceso sul tabernacolo in mezzo del campamento lui deve disprezzare il popolo si il popolo ebraico aveva paura ha detto vedi Kadosh Baruch voglio bene il popolo ebraico perché è lontano si ma è lontano è solo metafora sta sempre vicino sta dentro di tutto non c'è una cosa fuori di lui è un'altra lezione quando è sceso adesso va a vedere l'ebreo ogni giorno dopo un giorno di giorno un mese due mesi un anno due anni che va a succedere tu vedi una cosa sempre inizi a disprezzarla dice a Kadosh Baruch non avere paura questo è un caratteristico umano io sono il divino io ho la bellezza una bellezza vera una bellezza integra sai di chi noi a Pesach leggiamo capitolo 107 questo capitolo su che parla? su quattro tipi di gente che devono ingraziare il creatore ci sono quattro tipi di gente che fanno la baha del gomel quando si deve fare la baha di gomel? uno che era malato uno che è andato nel deserto uno che era è prigioniero ci sono quattro gente che devono fare la baha del gomel e tutto questo canto parla e l'ultimo versetto di questo canto che dice una cosa incredibile dice che voglio dire possa chi è saggio tenere presente questi fatti che fatti? le fatti che a gente ti ha salvato tu stava malato a gente ti ha salvato sei andato nel deserto c'era un leone e fu salvato tu stavi nel prigione e dice sai quanta gente muore nel prigione nessuno parla da questo a gente ti ha salvato però chi è saggio tenere presente questa fatti ogni giorno deve ricordare che tu stavi manato ogni giorno ti deve ricordare che poteva essere contrario dicono le maestri se tu fai questo allora riuscirono a comprendere la bontà dell'eterno sa di chi? a Kadosh Baruch è buono puro a Kadosh Baruch non c'è una cosa più bella da lui anche questa è la cosa bella che noi non possiamo ripagare a Kadosh Baruch per niente niente anche se facciamo tutto la Torah non possiamo ripagare lui e tanti volte c'erano momenti nella nostra vita che abbiamo capito la verità abbiamo visto abbiamo promesso abbiamo detto qual è il problema? il problema è che un'esitazione ed elevazione che non viene tradotto in un acto subito viene perso Ascente ha salvato Ascente ha guarito Ascente ha mandato la tua salvazione in qualsiasi cosa in qualsiasi punto della tua vita perché ognuno di noi aveva le sue appunti che hai fatto dopo il giorno dopo si è cambiato hai detto da oggi faccio ciabba da oggi da oggi non dico bugie da oggi non faccio la shonara non essere come quelli come il faraone di Ninveh dopo 40 giorni che ha cambiato la sua vita il giorno dopo è tornato voglio terminare solo con una storia per farle capire un giorno c'era un taxista e dentro questo taxista ho ricontato questa storia per una bella storia è entrato un grande rabbino un grande rabbino così barba grande bianco grande così bello con vestiti belli e il taxista dice ah tu sei un rabbino ti racconto i miracoli che ho visto con le mie occhi è una cosa e sai nel taxino non è che puoi fare un'altra cosa e lo senti dice vedi quando io ero giovani insieme con il mio meglio amico dopo l'esercito siamo andati a fare una vacanza a India sì c'è una così una moda in Israele tanti soldati ovvio non religiosi quelli che sono religiosi sanno che non si deve cercare la verità né in India né in Bangla e non in Thailand non so che vanno a fare là per sei mesi un anno vanno a fare però è andato con il suo meliomico dopo l'esercito un po' così come lo chiamano loro pulire la testa non so se pulire o spuncare è per pulire la testa in Thailand per sei mesi e là mezzo che stanno camminando là nel campo là sapete un posto tropico con un serpente con tutti là è voluto un grandissimo serpente sul suo amico e ci sono due tipi di serpente c'è un serpente che ti mangia con il veneno e ti ha ucciso però c'è un serpente tipo anaconda che si mette al lato del tuo corpo e ti fa soffocare mai sia quindi il suo amico è venuto un serpente iniziato a messi al lato del suo corpo e questo serpente inizia a piano piano stringere il suo amico sta soffocando lui prende dallo bastone con i suoi piedi con tutto però il serpente non muove il serpente ha preso il suo amico così ha detto al suo amico a quello che stava per morire poiché il colore del suo corpo ha iniziato a cambiare io mi ricordo quando ero un bambino mi hanno detto che quando uno sta in problema dire Shmai Israel fai abbiamo cercato di fare tutto fai Shmai Israel erano due ignoranti non Shabbat non Kipur non Kashir non niente fai Shmai Israel quello ha fatto Shmai Israel che succede miracoli il serpente ha dato via tac ha detto il taxista e tu sai il mio amico di questo giorno e poi è divenuto un uomo buono ha detto fare Mitzvot oggi lui fa Shabbat fa Kashir sta con la Kipah sta con la barba tutti i suoi bambini sono ortodoxi fanno la volontà del creatore solo cosa buona del giorno fino alla mattina ha detto il rabbino al taxista però scusa e tu che hai fatto anche tu hai visto il miracolo tu che hai fatto io ti vedo così con capelli lunghi così non sembra che tu fai Sheno rabbino non succede a me la storia succede al mio amico il rabbino ha iniziato a ridere ha detto tu sai quando la cosa che mi dice adesso è ridicolo che voglio dire a chi importa a chi succede tu con gli occhi tu hai visto le maraviglie del creatore hai visto i miracoli del creatore traducelo fa qualcosa maestro questo è l'amore nostro il popolo si è lamentato perché perché non ha capito che qualsiasi volta che tu vedi qualcosa qualsiasi volta che a gente ti aiuta qualsiasi volta che a gente ti ha mandato salvazioni non dimenticarlo ricordalo e come si ricorda si deve tradurlo le nazioni noi diciamo ogni giorno v'aavta v'aavta la Shem elokicha che che israel amera la Shem dare se tu stai dando a Kadosh Baruch Hu voglio dire che tu lo ami adesso che posso dare io a Kadosh Baruch Hu bella domanda vedi quando uno si sposa con una donna è difficile deve capire che voglia bene questa donna che cosa le piace deve capire esattamente che devo dare allora Kadosh Baruch Hu non hai fatto la vita facile non deve chiedere domande io ti ho dato un libro e questo libro c'è scritto esattamente lo che io voglio 613 cose vuoi dare a me cose 613 cose finizza di Kim dobbiamo fare questo non dimenticare la bontà di Hashem dobbiamo ricordare la bontà di Hashem e come si fa si traduce in azione tramite l'estudio tramite la Torah tramite la losce della menorah come abbiamo detto all'inizio della lezione la candela stessa è la mitzvah e la luce della candela è la Torah grazie a questo che uno ognuno di noi si esforza ognuno di noi deve mai dimenticare tutti questi punti che lui ha promesso fare tutte queste cose grazie a tutte le cose buone che Hashem ha dato non dimenticare continuare fare un esforzo fare una cosa di più ancora una mitzvah ancora una cosa fare vedere che lo ami fare vedere che lo vuoi dare con tutto il cuore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti